Non si placa a Biceglie la discussione sull'abbattimento degli alberi di Pino in via Giuseppe di Vittorio. Dopo la mobilitazione di sabato scorso da parte di cittadini e associazioni ambientaliste, con le richieste degli attivisti di Libera il Futuro e Pronatura, ribaditi ai nostri microfoni nella giornata di ieri, non si è fatta attendere la replica degli amministratori comunali. Sicuramente l'amministrazione ha valutato sin dal primo momento soluzioni alternative all'abbattimento dei pini, ma purtroppo non abbiamo potuto valutare soluzioni alternative e abbiamo dovuto sacrificare dei pini anche a nostro malgrado. Sull'argomento è intervenuto anche l'assessore all'ambiente Maurizio Di Pinto, anche egli presente come la sua collega di giunta a Monterisi all'incontro tenutosi sabato. Noi come amministrazione abbiamo riconosciuto sin dal principio che forse le associazioni andavano coinvolte prima, i cittadini andavano preparati a quello che sarebbe stato poi l'intervento. Di fatto in un incontro che abbiamo avuto a Palazzo di Città con l'associazione Pronatura, al quale abbiamo risposto ad una richiesta, un loro tecnico, un tecnico che è venuto con l'associazione, ha ritenuto che comunque forse non ci sarebbero state molte alternative. In parole povere dunque i lavori procederanno senza interruzioni con la prevista stroncatura degli altri alberi di Via di Vittorio ai quali sono stati simbolicamente apposti i nastri arancioni. La situazione dei fatti è che i lavori andranno avanti valutando attentamente con la disponibilità date alle associazioni i futuri abbattimenti e continuando comunque nella salvaguardia del verde rimpiantando alberi adeguati al territorio e che soprattutto non creano i problemi di allergia per la salute dei cittadini. Le inevitabili tensioni e polemiche causate da questo provvedimento non ostacolano in ogni caso la volontà dei rappresentanti istituzionali di aprirsi ad un futuro dialogo con cittadini e associazioni per ripensare concretamente il verde pubblico a Biceglie. Noi come assessorato all'ambiente e su sollecitazione e collaborazione del Partito Democratico abbiamo già dato piena disponibilità ad incontrare le associazioni per avviare un tavolo verde che poi possa portare subito ad un censimento del verde e successivamente ad un regolamento e ad una programmazione degli interventi. Questo per realizzare un vero piano in sinergia per la tutela del verde del comune.